Cambio caricatore Drona attivato Drona attivo Unico individuato Primo piano Mi faccio uno squillo Mi inseriscono Drona attivato Abbiamo i film video Sono a secco Claymore piaccata Drona attivo Tornate a occuparvi del contenitore Dopo aver difendete la stanza E proteggete il contenitore Tornate a occuparvi del contenitore Dopo averne un Lasciate perdere il contenitore Attività nemica